Dall'incredibile arte e circenze di Funambolica, le note della Peschera Jazz Festival, dalla rassegna del teatro al dannunzio ai magici momenti del cinema sotto le stelle. L'ente Manifestazioni Pescheresi ha consolidato il suo ruolo di riferimento come principale polo culturale per le famiglie, sia grazie alla vasta gamma di proposte culturali presentate, sia per l'accessibilità economica degli eventi. Il tutto dal 21 giugno al 20 settembre. Sono stati tre mesi pregni di contenuti e qualità. Il bilancio nelle parole del Presidente Walter Meale. Io dico che è proprio una stagione eccezionale da tutti i punti di vista, sia per quanto riguarda la presenza di pubblico in tutte le manifestazioni che comunque abbiamo coordinato e abbiamo realizzato, ma soprattutto anche per i giudizi che il pubblico ha dato per quanto riguarda tutte le manifestazioni che ci sono state. Quindi parlo non solo del Pescaraggezze, ma parlo anche del Funambolica, del teatro e anche del cinema che quest'anno veramente ha spopolato. Sulle presenze dato assolutamente lusinghiero significativo, crescita costante. Circa 20.000 presenze per quanto riguarda appunto Funambolica, teatro e Pescaraggezze. Considerando che nel 2021 eravamo arrivati a 18.000, quindi quest'anno abbiamo avuto un incremento di circa 2.000 presenze. Anche per quanto riguarda il cinema, 16.000, 17.000 presenze, per cui sicuramente abbiamo veramente dato tanta visibilità al pubblico pescarese e non solo, perché di turisti ce ne sono tantissime, ne sono stati tantissimi. Faccio il mio mestiere, faccio il commercialista e devo dire che comunque negli ultimi due bilanci noi abbiamo superato il milione come attività caratteristica dell'ente. Partivamo da circa 6.000-700.000 euro, quindi insomma vuol dire che l'impegno c'è stato. I conti tornano insomma. I conti tornano, anche quelli, sì, sì. Non ci vuole soltanto, purtroppo io sono anche un contabile, come si dice, un amministrativo. Bisogna anche fare i conti con le entrate, che purtroppo siamo sempre un po' in deficit. Io ho cercato anche di reperire fondi privati con le sponsorizzazioni, sono due anni che le ho inserite, le ho introdotte e sicuramente anche quello sarà oggetto in futuro anche di una maggiore attenzione.